Luca, intanto avete iniziato questa preparazione pre-campionato, proprio pre-pre-preparazione. Sì, una sorta di riattivazione muscolare. Ci siamo ritrovati, visto che siamo stati molto senza fare attività, visto anche quello che era successo nei mesi precedenti, abbiamo deciso di ritrovarci qui due settimane per poi fare la preparazione, come sempre, qua a fine agosto. Fine agosto. Intanto questa qui è l'opportunità proprio per amalgamare il gruppo, conoscere i vecchi con i nuovi arrivati. Esatto, sì, creare il gruppo che è sempre importante, soprattutto in questa categoria, quindi rimettere a posto i vecchi infortuni, preparare le gambe per la preparazione e conoscersi con i nuovi. I ragazzi? Come reagiscono? I ragazzi li ho trovati molto bene, tutti asciutti fisicamente, ben preparati, insomma. Si vede che hanno lavorato anche in questo periodo di fermo. Anche perché è una piazza desidera riemergere, aspetta l'impresa. Esatto, la società ha fatto dei buoni acquisti, non ci fa mai mancare niente e dobbiamo fare molto meglio l'anno scorso. Comunque fino all'ultima giornata essere in ballo per la vittoria. Tanto adesso è importante affilare l'intesa, conoscerci meglio, capire quello che vuole il mister, trovare attaccamento alla maglia, al gruppo. E anche aggiungerei a questi tifosi che ci sostengono sempre, già l'anno scorso sono a corsi numerosi allo stadio e quest'anno lo saranno ancora io. Ancora di più. Grazie e buon lavoro.